A tutti da Il Salutatore, grandissima sorpresa, il grandissimo Massimo Giletti per voi. No ma dico, guardate, incontro per strada Il Salutatore, cioè si è inventato un mestiere incredibile, cioè lui racconta e raccoglie tutti quelli... io che c'entro i vips? I saluti... Come li chiamano i vips? I vips... Ma io cosa c'entro i vips? Comunque, siccome Il Salutatore è un folle, salutiamo e diciamo grazie a Il Salutatore che esiste con la sua follia. Saluti a tutti, anche quelli che mi amano, cioè verso gli 89-90. Ciao, ti seguono tantissimi, grazie Massimo, ciao!